i promesi sposi capitolo ventisettesimo l'autorità giudiziaria di milano e lo stesso governatore don gonzalo finiscono per disinteressarsi di renzo non essendo riusciti a scovarlo e a catturarlo nei primi mesi dopo la sua fuga renzo però che non poteva supporre questa benevola non curanza continuò a tenersi nascosto cercando attorno a sé di trovare un uomo fidato che li facesse da segretario per comunicare con lucia ma il carteggio era allora estremamente difficile tanto più che renzo e lucia erano contadini semi analfabeti costretti a servirsi di un interprete finalmente una certa corrispondenza lenta e confusa fu attuata tra le due parti renzo ricevette i 50 scudi d'oro ma andò su tutte le furie all'esortazione di mettere il cuore in pace per la faccenda del voto di lucia l'immagine di renzo era sempre fissa nella mente di lucia e donna prassede a milano dove si erano stabilite contribuiva con i suoi disastrosi interventi ad alimentare in lei la lotta angosciosa tra il sentimento naturale di affetto verso di lui la decisa volontà di rinuncia don ferrante invece la lasciava in pace e badava soltanto i suoi studi le sue preferenze andavano alla scienza astrologica e a quella cavalleresca ma nella sua biblioteca di circa 300 volumi aveva i più reputati autori di storia di scienza naturale di statistica di filosofia aristotelica di magia di stregoneria e di lettere a mene fino all'autunno dell'anno seguente 1629 tutti i personaggi rimasero nello stato in cui li abbiamo lasciati nel settembre di quell'anno tre avvenimenti pubblici sconvolsero anche la loro più o meno tranquilla esistenza l'accentuarsi della carestia la guerra e la peste